Via Domenico Svampa, Cardinale Arcivescovo di Bologna, 1851-1907. È il testo sul cartello della nuova via al quartiere Navile, dietro gli uffici del Comune di Bologna. Alla cerimonia di intitolazione del nuovo tratto di strada erano presenti il Vescovo Ausiliare, il Monsignor Ernesto Vecchi, il Vice Sindaco Giuseppe Paruolo, Autorità della Provincia e della Regione, Giovanni Basso, Sindaco di Monte Granaro, Paese Natale del Cardinal Svampa e l'Associazione dei Marchigiani di Bologna. L'intitolazione della strada è stata resa possibile grazie all'iniziativa delle comunità salesiane di Bologna, a cui il Cardinal Svampa era molto legato, tanto che promossa in città la fondazione dell'opera di Don Bosco e l'erezione del Sacro Cuore, nella cui cripta riposano le sue spoglie. Tutti hanno ricordato l'opera del Cardinal Svampa, pioniere di attività sociali e culturali, come casse rurali, società di mutuo soccorso e il quotidiano avvenire. Anche l'ubicazione scelta per la strada che abbiamo inaugurato è estremamente significativa. Don Bosco ha sempre cercato il bene dei ragazzi coinvolgendo tutti quelli che potevano e l'amministrazione pubblica è sicuramente un punto di riferimento di quelli fondamentali. Il fatto che la via intitolata al Cardinal Svampa costeggi il nuovo comune è un segno di una grande voglia di unione e di collaborazione. Per noi salesiani poi è ancora un momento particolarmente felice perché la giornata dell'inaugurazione avviene nel giorno in cui onoriamo Don Bosco come santo. Il carisma di Don Bosco, voluto a Bologna dal Cardinal Svampa, è ancora vivo e porta frutti tuttora presenti per l'educazione dei giovani. Per i ragazzi e per le ragazze sia negli aspetti scolastici e sia negli aspetti oratoriani e parrocchiali.